Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua con un nuovo video shock, su una notizia shock, perché è stato confermato dal Barcellona, da Puyol, da Suarez, con frasi di affetto per Messi, che Messi ha chiesto la cessione a zero, cioè una clausola di cui vi avevo parlato, se non sbaglio nel video in cui parlavo di Messi all'Inter, un sogno Messi all'Inter, ovviamente questa clausola gli permette ogni anno di liberarsi a zero. Il problema è che per il Barcellona questa clausola è già scaduta, però Messi poi reclama e dice no perché la stagione è appena finita, quindi in questo caso la clausola è stata rimandata, cioè non è che è finita mentre c'era la stagione, appunto perché la stagione è finita ad agosto e non a maggio. Detto ciò è una notizia shock, una notizia che mi lascia veramente incredula, esterefatto, la fine di un'era, intanto sono in esterna, quindi scusate un po' il movimento, è veramente incredibile. Pare che le maggiori indiziate nel poterlo prendere siano Manchester City e PSG, però se io so una cosa, so che l'Inter può sognare, perché sognare non costa nulla, perché da quello che mi risulta, Zhang ha sempre, sempre desiderato Messi all'Inter, da quando è arrivato all'Inter lui è sempre cercato, ha sempre detto ai suoi direttori sportivi, io voglio Messi all'Inter, per lanciare proprio l'immagine di Suning, e per l'Inter vuole un colpo come Messi, e quale migliore occasione per farlo, se lui vuole Messi vuol dire che delle risorse, non all'interno dell'Inter, dove il budget abbiamo detto, che è un po' messo alle strette, però se lui tira fuori i soldi da Suning, allora lì le cose si rendono interessanti, perché lì le risorse sono tante, addirittura ha trappelato, ha chiesto soldi, ha chiesto aiuto al governo cinese, un affare di Stato, però queste qua non penso sia una cosa vera, io so dirvi che Gianluca Di Marzio, sta dicendo che l'Inter non appartiene alla corsa per Messi, ma in questo momento nessuno fa parte della corsa di Messi, per Sky Sport, perché Fabrizio Romano ha detto, che il Manchester City per ora non ha avuto nessun contatto con Messi, non ha parlato più di nessun'altra squadra, se non di Marzio, che ha detto che l'Inter non è in corsa per Messi, e che non ci possiamo permettere, cosa vera, però io ripeto, se Suning tira fuori i soldi, allora lì le cose diventano più interessanti, poi alla fine io vi dico la mia, per me rimarrà, per me rimarrà, perché si parla di un Bartonello che si dimette, in questo modo Messi semplicemente troverebbe un presidente molto più, magari andrebbe via il suo principale nemico, che troverà un presidente magari che lo convinca a restare, quindi occhio ai ribaltoni, occhio ai ribaltoni, perché non si sa mai assolutamente, mi sembra davvero assurdo vedere Messi con un'altra maglietta che non sia quella del Barcellona, come mi sembrava assurdo vedere Cristiano Ronaldo con una maglietta che non sia quella del Barcellona, perciò tutto è da vedere, tutto è da stabilire, sarà un calcio marcato fantastico secondo me, perché abbiamo detto che le squadre non possono investire tanto, però poi vedi il Chelsea, cioè non possono spendere tanto, però poi vedi il Chelsea che ti spende 100 milioni per Havertz, che ti compra Zies, che ti compra Sar, cioè che ti vuole provare a comprare Reiss, che ti compra Werner, sono cose calamorose, e infatti il Chelsea costruisce una squadra pazzesca, vabbè, Messi appena iniziato, ieri sera ha iniziato a seguire il Chelsea su Instagram, questi vabbè sono indizi, più o meno attendibili, ma a cui non bisogna dare tanto peso, anche perché segue anche il Manchester City, la mia speranza è quella che questo sogno di Messi all'Inter, che ho fin da bambino, si possa realizzare, però ovviamente vi dico che non è, cioè non vi dico a differenza di Di Marti che è irrealizzabile, ragionando solo, e poi vabbè da quello che mi risulta io non mi bilancio su Messi, però perché non ne parlo, però io parlo di cose che principalmente so, nel senso che sappiamo un po' tutti, e penso che Messi, se Suning ti lasse i soldi, ti lasse fuori i soldi, potrebbe essere reale. Detto ciò, ripeto, per me resta al Barcellona, Bartomeu si dimette, e punto, e finisce lì, oppure torna in Argentina, perché in Europa, boh, non riesco a immaginarlo, con un'altra maglia, però, boh, non penso a torneri in Argentina, comunque ha 33 anni, magari voglio di una nuova sfida, per me, resta lì dove, resta lì dove, ma di sicuro, si stanno aprendo scenari molto interessanti, vedremo, vedremo come andrà questo calcio mercato, per questo video è tutto, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, arriviamo a 700 iscritti, ci siamo quasi, e noi ci vediamo al prossimo video, sempre Forza Inter, e ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi,